La disavventura ieri sera a Villadogna per una ragazza di 19 anni che si è ribaltata con la propria auto mentre percorreva via Marconi nei pressi della banca. L'incidente si è verificato poco dopo le 21.30 e per fortuna non ha avuto conseguenze per la giovane. La 19enne era alla guida della sua Peugeot. Avrebbe urtato un muretto laterale ribaltandosi. Sul posto sono intervenute l'automedica ed un'ambulanza della Croce Blu di Gromo. Non è stato comunque necessario il trasporto della conducente in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Clusone.